Cronaca di un assassino di cui vi faccio vedere il DVD, che credo sia già fuori catalogo tra l'altro, uscito qualche anno fa, è un piccolo film americano del 1961, un noir con diversi motivi di interesse. Prima di tutto parliamo di una produzione indipendente, girata con pochissimi soldi, appunto in un anno, il 1961, abbastanza cruciale, perché siamo all'inizio degli anni 60, anni in cui esplodono le nouvelle vague, non soltanto quella francese, ma anche le cinematografie del terzo mondo, e anche nel cinema americano ci sono dei venti di rinnovamento molto forti che coincidono con la crisi dello studio system, un regista come John Cassavetes, che è esordito due anni prima nel 59, se non dico male, con il bellissimo Ombre, detta un po' nuove regole cinematografiche, che Alan Barron, autore di Cronaca di un assassino, fa sue. Il film si intitola nell'originale Blast of Silence, colpo di silenzio, ma è una di quelle volte in cui, almeno secondo il mio gusto, il titolo italiano è più efficace, anche più consono, una delle rarissime volte, forse un caso più unico che raro. Il legame con Cassavetes, ma non solo lui, penso anche al cinema di Maurice Engel, per chi ricorda il suo bellissimo Il piccolo fuggitivo di qualche anno precedente, il legame insomma con queste pratiche di cinema ai margini dell'industria è molto forte. Che cosa racconta Cronaca di un assassino? Allora, diciamo innanzitutto che Alan Barron non è soltanto il regista, lo sceneggiatore del film, ma neanche l'interprete, quindi abbiamo a che fare con un film veramente marchiato dalla personalità del suo autore a tantissimi livelli. Il film racconta di un killer di nome Frankie che giunge a New York per onorare un contratto, lui è un indipendente ma soprattutto un solitario e impegna due giorni e precisamente la vigilia di Natale, il Natale, a studiare a quello che sarà il suo bersaglio, un piccolo gangster della malavita locale. E l'ambientazione durante i giorni di Natale della città addobbata, diciamo in festa, è uno dei motivi anche se vogliamo di fascino e originalità del film. Durante il suo girovagare nello studio insomma delle abitudini della sua futura vittima, Frankie incontra anche una vecchia fiamma, una ragazza con cui c'era stata in anni passati una storia, non particolarmente, forse addirittura un accenno di storie, una storia vera e propria e passa del tempo con lei, tra l'altro travisando anche le intenzioni della ragazza e facendole delle avance che poi verranno respinte. Una volta ucciso il suo bersaglio però ci sarà il tradimento dei mandanti di Frankie che a loro volta lo uccideranno e il film finisce proprio con la morte del protagonista. Quindi anche dalla trama capiamo che è un film che non si fonda su un intreccio molto elaborato, anzi la regia di Baron è una regia assolutamente digressiva e insegue il suo personaggio quasi con regole da cinema verità. Le riprese sono evidentemente fatte, sono rubate insomma le riprese della città in un taglio quasi documentaristico e anche la fotografia è una fotografia da cine giornale, da reportage. In questo senso Baron segue i dettami anche di certo cinema francese che utilizza i codici linguistici del noir facendo di fatto del cinema d'autore quello che succede con l'epocale fino all'ultimo respiro, succede con Tirate sul pianista di Truffaut e diversi altri film. Quindi l'idea di utilizzare il noir come spunto per parlare d'altro è una modalità molto moderna che avrà tantissimi epigoni in seguito anche se il film di Baron resterà sempre un po' nell'ombra lo dimostra il fatto che lo stesso Alan Baron non avrà una carriera nel cinema, girerà soltanto un altro film molti anni dopo e poi sarà attivo soprattutto in televisione. Ma ciò nonostante Cronaca di un assassino è un film che merita assolutamente di essere recuperato e di essere visto proprio per questo suo taglio così digressivo, così divagante. In effetti è un film oltre ad essere un noir è anche un film sulla solitudine, il personaggio di Frank è definito dalla sua solitudine che viene ribadita quasi in ogni inquadratura, lui solo in mezzo alla folla della New York natalizia, lui solo anche alla festa in cui incontra questa sua vecchia fiamma, lui è in questo posto dove tutti si divertono, dove tutti ballano, stanno insieme e lui è isolato solo seduto su una poltrona. È proprio una caratteristica principe del personaggio che quando poi cerca di entrare in relazione con altri esseri umani di fatto sbaglia qualcosa e lo dimostra bene il suo interagire con questa ragazza. Allo stesso tempo a me sembra che questo film rientri in una piccola sottocategoria del noir che è quella che prevede proprio il tema del killer isolato dalla società, cioè c'è tutta una serie di film che hanno questa figura che si ripete del sicario solitario sganciato anche dalle normali logiche criminali che si guadagna la vita comunque servendosi del milio criminale e che spesso in quasi tutti i film che ho in mente incontra una donna che pur non essendo in senso stretto una dark lady però è l'angelo della morte che lo porta a perdersi. Si possono fare dei titoli, il primo è naturalmente Il fuorilegge di Frank Tattel del 1942, film dove si crea tra l'altro la coppia Alan Led e Veronica Lake e un altro film che secondo me è legatissimo a questo cronaca di un assassino è il capolavoro di Jean-Pierre Melville, cioè Le Samurai dove la stessa iconografia di Alain Delon, cappello impermeabile, rimanda sia all'Alan Led e il fuorilegge ma anche all'Alan Baron appunto di cronaca di un assassino. Continuando a cercare i potetici fratelli di questo personaggio io cito anche Driver di Walter Hill pur nella sua diversità ma la cui laconica scansione del ritmo mi rimanda ai film che ho citato prima e anche Ghost Dog di Jim Jarmusch è un altro film che nella sua struttura ripete le caratteristiche dette e chiuderei con Drive di Nicholas Winding Refn, film a mio avviso minore rispetto ai grandi film che ho citato però ha queste caratteristiche che ho appena detto. La cosa che forse affligge un pochettino cronaca di un assassino cioè pur parlando di un film che ha tanti motivi di interesse, la modernità anche di rinunciare a una trama forte per perdersi un po' nel girovagare di questo personaggio nella New York delle festività natalizie è un film proprio di deriva urbana ecco, cronaca di un assassino io lo definirei un film di deriva urbana però dicevo che ha un difetto, un difetto che un po' lo affligge ed è curioso che sia un difetto perché la voce off, cioè la voce fuoricampo è un po' uno stilema del noir che ci rimanda alle grandi narrazioni in prima persona della grande narrativa noir ed è in fondo un elemento presente anche nella versione non approvata da Ridley Scott di Blade Runner ma sappiamo che il Blade Runner con il montaggio parzialmente diverso da quello che vuole la Scott in realtà forse è più affascinante dello stesso Director's Cut anche perché la voce fuoricampo di Rick Deckard ci stava proprio perfettamente nell'atmosfera da noir pur con decor fantascientifico di Blade Runner in questo caso la voce fuoricampo è eccessivamente invadente e non solo, è anche un po' sentenziosa cioè c'è questo commento scritto tra l'altro da tale Mel Davenport che è eccessivamente letterario rivolto al personaggio, un po' come se esortasse il personaggio lo commentasse mano a mano ogni azione e si rivolge lui alla seconda persona singolare in cui sto anticipando, se vogliamo, certe narrazioni minimaliste penso naturalmente al Jay McKinney di Le Mille Luci di New York però esplicita un po' colpevolmente secondo me anche alcune metafore che già di per sé non erano esattamente oscure inserite nel film per esempio il film inizia con un'inquadratura buia schermo buio, piano piano vediamo balenare una luce e ci accorgiamo di essere all'interno di una galleria non solo di una galleria ma di sposare la soggettiva di un treno che a un certo punto esce dalla galleria portando il personaggio appunto in una delle stazioni di New York questa scena è contrapuntata proprio da questa voce fuori campo che parla di allude alla nascita e visto che il film si conclude con una morte anche se non ce lo diceva uscire dall'oscurità di questo tunnel esattamente come possiamo pensare un nascituro che esce dal corpo materno e poi appunto si chiude tra l'altro una morte che lo trova nell'elemento dell'acqua anche qui in un rivolo d'acqua cade morto in un ambiente fluviale insomma ecco tutte queste cose arrivano benissimo secondo me allo spettatore senza bisogno di dirle io sono molto poco amante del diciamo del in questo caso non è uno spiegone però delle sottolineature inutili ecco e non posso non pensare a come sarebbe stato il film anche nelle lunghe passeggiate nelle lunghe carrellate che accompagnano Frankie nelle strade new yorkesi come sarebbe stato senza commento fuori campo ma semplicemente con i rumori della strada secondo me avrebbero reso più affascinante ancora più moderno e anticipatore questo film che comunque al di là di questa di questa cosa è un film che secondo me merita tantissimo di essere recuperato vuoi per la rielaborazione che adesso ci sembra scontata insomma rifarsi al genere noir in questo modo ma all'epoca era una secondo me era ancora una cosa inedita ecco diciamo molto più europea che americana infatti i film analoghi insomma che hanno questo tipo di attenzione al codice di genere per traslarlo li troviamo molto più facilmente in Europa e segnatamente in Francia che non nel cinema statunitense locale e poi insomma i legami con il cinema indipendente dell'epoca da Cassavetes anche veterane come Cindy Sherman meno famosi che arrivano meno al pubblico ma la cui lezione comunque si sente in questo cronaca di un assassino e l'unica cosa appunto fortunasemente io qualche anno fa sono incappato in questo DVD che poi è edito dalla Sinister Film se non erro che è un po' specializzata in questi recuperi di vecchi noir così molto interessanti io temo che sia già fuori catalogo e non so in generale quanto sia rintracciabile come film ma sul web alla fine si trova praticamente tutto tanto vi dovevo vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti